Ciao ragazzi, sono Angela, questo è il secondo viaggio che faccio con Enjoy Viaticus. Come sempre l'organizzazione è impeccabile, accoglie le esigenze dei tutti e ti permette di vedere cose che da sola secondo me non riusciresti mai a vedere. Questo viaggio in Scozia è stato sorprendente, molto vario, grazie alla guida, a Federico, all'organizzazione di Ferdinando, Francesca e dai ragazzi e ve lo consiglio.